Sindaco, in attesa del riassetto della Giunta, cosa possiamo annunciare di ufficiale fino adesso? Soltanto le dimissioni di Udiciani? Possiamo annunciare che il programma elettorale, che è stato alla base della mia campagna elettorale, che è quello del rinnovamento della città, è alla base di tutte le mie decisioni. Sto sentendo i consiglieri comunali, senterò i gruppi, chiederò la convocazione del coordinamento che mi ha sostenuto, ma penso che oggi la città debba essere al primo posto, la città di Sulmona con i suoi problemi, con il tempo da recuperare, con un'amministrazione che possa occuparsi anche di altre questioni, oggi un po' in rilento perché legate allo staff del Sindaco. La mia esigenza, o il staff del Sindaco non si può fare motivi della Corte dei Conti, non perché non lo voglio fare. Queste deleghe devono essere redistribuite, bisogna trovare forse qualche professionalità, per far ripartire alcuni settori importanti, quelli quelli dell'urbanistica. E quindi la mia riflessione in questo momento è che quello spirito con il quale ci siamo presentati per governare la città non venga meno. Se dovessi accogermi che dovesse venire in meno questo spirito di rinnovamento e di cambiamento, ne prenderò atto e trarò le mie conseguenze. Cosa le ha detto Iudiciani? Perché si è dimesso? Iudiciani è un tecnico, forse uno dei più bravi in questo momento a Sulmona, sulle problematiche del bilancio, sulle problematiche del patrimonio e dei tributi. Ha fatto un eccellente lavoro, tant'è vero che nell'assestamento di bilancio del 30 quell'assestamento è stato votato da tutto il Consiglio Comunale all'unanimità. Erano 20 anni che non succedeva. Quindi vuol dire che il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro fatto per bene. Lei ha detto che non subirà condizionamenti per quanto riguarda adesso l'assetto che dovrà avvenire nell'Aggiunta. Nello spirito del rinnovamento e del programma con cui ci siamo presentati ai cittadini di Sulmona e anche di qualche risultato che è stato colto, forse pubblicizzato male, io penso che il Sindaco debba essere libero di scegliere la squadra migliore per portare avanti quel programma. E io rivendicherò tutta questa mia autonomia. Lei questa mattina in conferenza stampa ha fatto un discorso, ha fatto il punto della situazione sulla raccolta differenziata. Vuol dire che l'assessore Valdo non farà più parte della Giunta? No, detto niente sugli assessori chi farà parte e chi non farà parte. Si è lavorato soprattutto sui servizi in questi mesi, servizi messi a dura prova perché da una mancata organizzazione, da una mancanza di mezzi. Questa mattina doveva partire la raccolta differenziata, che io ho volutamente bloccato con l'ordinanza perché stiamo ancora seguendo il discorso del Piano Neve. Ed è un altro risultato che sarà nei prossimi giorni sotto gli occhi della città. È stato presentato una proposta di finanziamento per l'allargamento a tutta la città che conseguiremo l'anno prossimo. Per cui è un settore molto delicato, è un settore che riguarda anche i lavoratori delle cooperative e va affrontato con la giusta attenzione. Quando annuncerà la Giunta? Al prossimo Consiglio Comunale. Quando ci sarà? Penso giovedì sulla questione dell'istituto alberghiero che noi vogliamo portare qui a Sulmona. Sindaco, però lei in conferenza stampa ha anche detto che c'è la possibilità di un eventuale azzeramento di Giunta. Ha già in mente qualche nome, qualche sostituzione? Ci può dire qualcosa? Quello che guida è il rinnovamento e il cambiamento. Anche alla luce delle primarie che si faranno le did, che vedono Renzi alla guida del nostro Paese. Ci sono tanti consiglieri giovani, io personalmente sono un renziano e penso che la lista pronti per cambiare insieme alle altre forze politiche di maggioranza seguirà quella mia indicazione. Grazie.